Musica Era evaso dalla propria abitazione, luogo in cui si trovava in regime di arresti domiciliari dallo scorso agosto. La sua irreperibilità si è conclusa però nella serata di lunedì, quando Davide Dilena, classe 89, è stato intercettato dagli agenti della squadra mobile di Brindisi, che sorvegliano i luoghi dove con più probabilità lo stesso si poteva appoggiare. Il Dilena, personaggio molto noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, dopo essere stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione per una rapina aggravata, era stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Via del Mare, dove era rimasto fino all'agosto scorso. Da diversi giorni, anche a seguito degli ultimi eventi illeciti, i controlli effettuati dagli agenti della squadra mobile di Brindisi su coloro che negli ultimi periodi si erano resi irreperibili, si erano fatti incalzanti. Sul Dilena pendeva un'ordinanza di riprisi della custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d'Appello di Lecce. Carmine Calò, ex consigliere comunale, aderisce al progetto di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Noi abbiamo sempre, per chi ci conosce, militato nell'area della destra, in particolar modo della destra sociale, e in questo senso abbiamo inteso proseguire il nostro impegno politico, oltre quello già trascorso nella passata amministrazione appunto da consigliere comunale con la destra di storace, oggi intendiamo continuare questa attività politica nel presente ma anche per il futuro all'interno di un soggetto politico, qual è Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, che ha un respiro appunto nazionale e che può vantare anche rappresentanti delle massime istituzioni parlamentari. Sono quasi cinque mesi per parlare di termini locali e dell'amministrazione Bruno. Qual è il tuo giudizio? Il giudizio al momento è negativo, basta guardare qual è il manifesto degli impegni assunti dal sindaco Maurizio Bruno per i primi cento giorni e abbiamo visto quello che è stato realizzato, pressoché niente. E quindi non può che essere negativo, anche perché tra l'altro c'è un secondo profilo che vorrei tenere in considerazione che è quello della risoluzione concreta e reale dei problemi di Francavilla e Fontana. Vediamo che le strade sono sempre uguali, il verde pubblico è sempre uguale, non sono state assunte alcune iniziative per quanto riguarda la risoluzione del problema legato al palazzetto dello sport, alla nuova area mercatale e così via per quanto riguarda le principali opere pubbliche. Non sappiamo ancora tutt'oggi quali sono gli indirizzi di questa amministrazione in merito alla risoluzione di questi problemi, a parte chiaramente quelli che sono stati fino ad oggi, gli annunci, ma poi senza fatti concreti che ne abbiano seguito. Anche Francesco Fumagalli, ex assessore, aderisce al progetto di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Sì, aderisco con convinzione al progetto di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Veramente diciamo un po' in ritardo perché l'avremmo dovuto fare prima della campagna elettorale, poi è successo qualcosa che non è andato per il verso giusto, ma abbiamo rimediato e chiaramente siamo rientrati con alcuni amici nella componente di Fratelli d'Italia, prima l'Italia e lì ora siamo collocati a fare certamente politica nel miglior modo possibile per il bene della nostra città. Cosa significa questo per il centrodestra di Francavilla Fontana e soprattutto per l'opposizione all'amministrazione Bruno? No, io dell'amministrazione Bruno non parlo, parleranno i cittadini nel momento in cui ci sarà un'ipotetica campagna elettorale futura, ma per quanto riguarda strettamente il discorso del personale e del gruppo di Fratelli d'Italia posso assicurare che io personalmente ritrovo all'interno di un partito quella fiamma che mi ha sempre contraddistinto, io non devo nascondere nulla, vengo dal Movimento Sociale, dall'Alleanza Nazionale, ritrovo la fiamma in un partito che a me mi fa tanto piacere e che comunque credo possa essere questo nuovo partito volano per cercare di raccogliere tutte le anime di destra o di centrodestra che chiaramente non si rappresentano in quei valori che oggi, ahimè, stanno cominciando a vacillare. Io credo nella famiglia, credo nella patria, credo in quei valori che purtroppo molti partiti non ritengono importanti, io li ritengo importanti e secondo me la collocazione migliore è quella di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni che è la responsabile del partito. Palazzo San Francesco Alvia, i lavori di messa in sicurezza, l'amministrazione comunale di Ostuni ha deciso di mettere in sicurezza la facciata del Palazzo Storico, sede municipale. Nei giorni scorsi i tecnici del Comune hanno verificato lo stato di pericolosità di alcuni punti della facciata, soprattutto in occasione di eventi meteorologici avvenuti nelle scorse settimane. Per questa ragione l'assessore lavori pubblici Paolo Pinna ha invitato l'ufficio tecnico a predisporre gli atti necessari per mettere in sicurezza la facciata dello storico Palazzo Francescano e rendere così sicuro il transito di utenti, turisti e cittadini in Piazza della Libertà. Nel frattempo l'amministrazione comunale ha avviato l'iter burocratico per l'affidamento dei lavori di risanamento della facciata di Palazzo San Francesco il cui inizio è previsto per la prossima primavera. Un incontro promosso a Bologna nell'ambito della rassegna EIMA International dal CIEAM, Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Obiettivo una cooperazione tra Italia ed Egitto per sviluppare soluzioni adatte alle esigenze dell'agricoltura nordafricana. L'agricoltura egiziana infatti, piattaforma d'accesso all'intero mercato nordafricano, ha un potenziale formidabile con un fabbisogno di meccanizzazione crescente e quanto emerso dall'incontro sul tema Egitto, opportunità e cooperazione per lo sviluppo sostenibile della meccanizzazione agricola. Abbiamo un pacchetto di interventi nel settore agricolo che si può quantificare in 50 milioni di euro circa con attività che vanno dal sviluppo di un'agricoltura sostenibile, pratiche culturali adeguate per gli agricoltori e meccanizzazione agraria. L'occasione di oggi è stata quella di presentare una nuova iniziativa nell'ambito del settore della meccanizzazione agraria che si svilupperà in due governatorati del Paese, quello di Minia e di Fayum. Questo progetto vede in essere un partenariato molto importante con il Siam Bari, con l'Istituto Agronomico per il Mediterraneo di Bari che avrà la funzione di portare avanti tutta una serie di attività di assistenza tecnica, di formazione, di aggiornamento del personale in modo da fare sì che l'innovazione tecnologica che questo progetto porterà nel campo della meccanizzazione agraria possa veramente essere sostenibile, possa essere veramente assimilata dalle popolazioni beneficiari, dagli agricoltori in maniera da poter poi essere replicata e continuata al di là della vita del progetto che come tutti i progetti ha una durata limitata nel tempo. Il governo italiano attraverso un credito d'aiuto ha fornito all'Egitto 10 milioni di euro che favoriranno la meccanizzazione di due governatorati, quello del Fayum e quello di Minia. Il ruolo della nostra organizzazione è quello di facilitare l'incontro della conoscenza con il bisogno e quindi arrivare agli agricoltori con una meccanizzazione utile adatta ai bisogni di questi due governatorati e naturalmente in questo c'è tutta l'assistenza tecnica di innovazione istituzionale perché è la prima volta che questo progetto ha anche una componente di assistenza tecnica non è quindi una mera fornitura di trattori o di meccanizzazione e la costruzione di una buona pratica che permetterà agli egiziani ma anche ad altri paesi perché è ripetibile in altre situazioni non soltanto di avere una meccanizzazione adatta ai bisogni ma anche di avere un'assistenza, una formazione e un seguito che permetteranno alle agricolture di questi paesi, in particolare l'Egitto che ha bisogno di tantissimi alimenti in quanto è un paese enorme con 100 milioni di abitanti e con pochissima terra di poter trasformare la propria agricoltura in maniera più redditiva ma anche più produttiva Nella mattinata di lunedì scorso il questore di Brindisi Roberto Gentile ha consegnato una targa di ringraziamento alla Confartigianato di Brindisi per la collaborazione fornita a titolo gratuito negli ultimi anni ed oramai consolidata per la formazione in materia di sicurezza aziendale Alla consegna oltre ai funzionari della questura erano presenti per ritirare l'omaggio il presidente della Confartigianato Tonio Ignone, il direttore Antonio Solidoro e Cosimo Carlucci Quest'ultimo è responsabile di tutta l'attività formativa operata nell'ultimo triennio Questa intesa è unica nel suo genere in Italia sia per la materia trattata che per l'impegno e i risultati conseguiti Ha consentito l'addestramento e l'aggiornamento di oltre 400 unità della Polizia di Stato appartenenti a tutti gli uffici di questa provincia L'incontro è stato importante per rafforzare il legame di collaborazione anche per gli anni a venire tra la questura e Confartigianato Un gruppo di ragazzi insieme per la TV Gianvito D'Averse e Michele Conenna dell'associazione Iris Media hanno ideato un nuovo programma televisivo in onda sul canale 85 di TRCB che sta riscuotendo grande successo una condizione brillante firmata da giovani per parlare di svariati argomenti Siamo negli studi di TRCB qui tra qualche minuto sarà registrata una nuova puntata della trasmissione pomeriggio TRCB curata da Michele e Gianvito Allora parliamo di questa nuova trasmissione tantissime novità poi è una trasmissione frizzante, dinamica parla di attualità, parla di problemi di cronaca poi c'è anche la cucina, c'è il make up, c'è un po' di tutto Sì, diciamo che si è voluto proprio realizzare questo contenitore dove ogni persona magari da piccola, grande con dei problemi, senza problemi potesse in un certo senso andare a seguire determinati argomenti e magari non annoiarsi su un argomento solo, unico che magari potrebbe anche non interessare invece proprio il fatto del contenitore diciamo di incartare questa scatola piena di tanti contenuti che potesse un po' raccogliere diciamo un'età di ampio margine e che quindi diciamo potesse essere eseguito e potesse avere grande successo così come pomeriggio TRCB sta avendo in queste settimane da quando è iniziato Infatti state riscontrando successo anche perché lo abbiamo detto è una trasmissione molto varia quindi ad Ostuni e comunque nei dintorni stanno riconoscendo l'importanza di questa trasmissione Sicuramente la semplicità di questa trasmissione il saper condurre allegramente anche con molta improvvisazione rende, diciamo, è l'ingrediente in più di questo programma di pomeriggio TRCB poi con anche la cucina le donne sono molto attente a quello che si fa qua e soprattutto anche abbiamo rivolto un'attenzione a chi magari si dedica anche al make-up come ho detto prima, alle unghie a tutto quello che può essere il mondo delle donne però anche un occhio attento sicuramente una parentesi la diamo anche alla cronaca che è giusto anche informarsi ma sempre in maniera molto leggera perché il nostro programma punta d'altro puntiamo sui giovani puntiamo anche sui talenti sono tanti ragazzi che vengono a cantare anche che vengono a ballare infatti nelle prossime puntate vedrete anche un corpo di ballo e ovviamente non manca neanche la valletta di turno che la fa mia nonna ed è spettacolare quindi l'appuntamento è il martedì e il venerdì alle 14.45 quindi largo ai giovani con questa nuova trasmissione di TRCB che si chiama appunto Pomeriggio TRCB in questo numero del Salus Tg cimeli e ambulanze d'epoca la mostra sui 150 anni del corpo militare della Croce Rossa italiana cibi richi di acidi grassi omega 3 vitamine e poco rame ecco la ricetta anti Alzheimer su Google consultare solo fonti mediche attendibili il consiglio in uno spot belga salva pazienti dall'ambulanza che trasportò Benito Mussolini in fuga da Roma all'omologa e tecnologico Lince usato in Afghanistan oltre alla ricostruzione di un ospedale da campo della prima guerra mondiale come Ciceroni d'eccezione uomini indivise storiche dell'epoca è la mostra soccorso umanitario ed evoluzione dell'arte sanitaria il corpo militare della Croce Rossa italiana dal 1866 ad oggi aperta gratuitamente al pubblico fino al 23 novembre dal complesso monumentale Santo Spirito in Sassi a Roma i medici dell'epoca anche se giovani anche se laureati da poco devono avere competenze precise in chirurgia d'urgenza e traumatologia proprio per trattare le ferite le fratture i traumi negli ospedali italiani c'era già da allora un servizio di radiologia fondamentale un'assistenza è fornita dalla sanità militare dalla Croce Rossa italiana comprese anche le infermieri volontarie arriva nel piatto attraverso l'assunzione di pesce azzurro vitamine del gruppo B e poco rame la terapia per la prevenzione e protezione almeno parziale dall'invecchiamento cerebrale e la conclusione di un gruppo di ricercatori del Policlinico Gemelli e dell'ospedale Fatebene Fratelli il 75% della popolazione si rivolge al dottor Google per consigli medici non c'è niente di sbagliato nel cercare informazioni sulla rete a sottolinearlo con due video che mostrano tutti i pericoli dell'affidarsi al cybermedico al minimo sintomo e un sito online fiammingo in una campagna contro l'adiodiagnosi via web a sottolinearlo con due video